ciao a tutti ragazzi e ragazze bentornati sul mio canale io sono Joe Red e oggi parliamo di uomini e donne throne over anche oggi parliamo di Riccardo Guarnieri e la sua sfilata il tema della sfilata di oggi mercoledì 16 ottobre per gli uomini e il fascino irresistibile tra i più applauditi Riccardo Guarnieri che ha sfilato in box e maglietta miscelando le atmosfere trasgressive di 50 sfumature di grigio al romanticismo che si può avere in camera da letto il bel pugliese che non si è rivolto alla stylist Anai Ricca ha sfoggiato un intimo molto curato ed un fisico definito da far impalidire qualche collega più giovane i volti sono stati altissimi da parte del parterre femminile Tina è rimasta sorpresa ovviamente non sono mancate le voci fuori dal coro che hanno abbassato ulteriormente la media Deborah gli ha dato tre che ha trovato tutto squallido non c'è fascino soprattutto è facile mettere in mostra i pettorali Simonetta invece si è tenuta sul 4 dicendo che personalmente sei un gran bel ragazzo troppo effemminato per i miei gusti anche per i movimenti ma l'opinione che tutti intendevano era quella di Ida Platano infatti Guarnieri sta cercando di riconquistarla con fatica e Ida l'ha premiato con un meritatissimo 10 con questo concluso se vi interessa iscrivetevi al mio canale per altre news un grosso abbraccio da Gio Red con la scusa di parlare io ti tengo vicino spero che non finisca ora questa mia canzone così posso continuare e Grazie a tutti.